salve a tutti oggi vorrei condividere la mia esperienza con le cuffie gravastar sirius pro un'alternativa che ho scelto dopo un'esperienza alquanto frustrante con il mio iphone 15 pro max e le mie vecchie ipods pro un video che se amate la tecnologia e se siete curiosi di capire di quanto sia assurdo quello che sto per raccontarvi e che mi è successo con apple dovete vedere assolutamente ma soprattutto oggi vi voglio anche raccontare come prendere un prodotto alternativo che avvicina quel prodotto apple davvero di tanto ma costa molto molto meno anche 49 euro e ve lo dirò ma prima come al solito vi chiedo un like a questo video e se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi al canale siete i benvenuti la mia frustrazione è iniziata quando ho scoperto che le mie ipods pro non funzionavano col mio nuovo iphone 15 pro max le cuffie apple non riuscivano a connettersi con il mio nuovo smartphone io ho detto cioè porco cane è tutta roba apple insomma vendi 14 per prendermi il 15 pro max perché per varie cose avevo bisogno di usare anche il nuovo obiettivo 5 per ma mi trovo un prodotto apple che non va più il problema era che le mie cuffie non riuscivano ad aggiornare il firmware e l'assistenza dji non riusciva a risolvermi il problema telefonicamente io ho fatto quattro telefonate di un'ora l'una non riuscivano a farmi aggiornare in nessun modo il firmware e la soluzione finale è stata una e una sola prendermi un appuntamento presso un centro apple che mi avrebbero assistito e ovviamente risolto il problema ma il colpo successivo è stata una mail una volta che mi hanno preso l'appuntamento di apple che sì mi confermava l'appuntamento per portare le mie cuffie al centro assistenza ma mi invitava prima per definire tutto ad un pagamento di una cifra a poco meno di 200 euro per le riparazioni dato che le mie airpods pro erano fuori garanzia cioè assurdo assurdo avevo le airpods pro che funzionavano e di fatto le usavo su tutti i miei dispositivi sul mac sull'ipad sul mio 14 pro max ma con il mio nuovo iphone no e la soluzione di apple qual era era quella di richiedermi quasi 200 euro ma sono pazzi ma sono pazzi e allora ho deciso di cercare un'alternativa e leggendo recensioni e altro ho scoperto loro ovvero le gravastar sirius pro ero tentato di prenderle su aliexpress se sono onesto si trovavano a 49 euro magari se ritrovo il link e ve lo lascio in descrizione e così magari se vi interessa le potete prendere da lì ma poi mi son detto le prendo su amazon perché adesso mentre giro il video ci sono e vedo hanno il 35 per cento di sconto ma quando le ho prese io qualche tempo fa avevano il 50 per cento e me le sono preso a poco più di 70 euro e poi ho venduto le mie ipod pro allo stesso prezzo a un mio amico che non ha iphone 15 e li funzionano ovviamente con tutti i suoi dispositivi lui ha fatto un affare io l'ho cambiata con queste beh che dire questo prodotto mi ha letteralmente affascinato con il suo design futuristico io me le sono portate in viaggio lo vedrete mentre vi racconto questa cosa durante questo video lo usate molto e ho scoperto che queste cuffie sono realizzate per cosa con cura in un materiale di lega di zinco e presentano dettagli artigianali molto molto curati sono davvero ben fatte uniche robuste e quasi mi sembra a vederle quasi mi siano arrivate ragazzi dallo spazio guardate eccole vi e sembra che siano sopravvissute a una guerra intergalattia come sono particolari inoltre la custodia include sei luci rgb e persino un apri bottiglia integrato che da qua mi permette di aprire appunto le bottiglie vedete a che serve ma nulla è vero la vera bellezza di queste cuffie risiede nelle tre modalità audio il Sirius Sly la modalità gioco che offre un coinvolgente suono surround virtuale 5.1 che è ideale ovviamente per usarle con i giochi la modalità film che di fatto vi consente grazie a un audio surround HD di mettervi al centro dell'attenzione vedendo un film davvero in una modalità fantastica perché l'audio è davvero bellissimo e per finire ovviamente la modalità musica che offre una chiarezza vocale, bassi profondi è un'esperienza sonora simile a quella di un concerto funzionano davvero molto molto bene in questa modalità e durante le chiamate ovviamente possiamo usarle anche per chiamare e rispondere alle telefonate sei pronto? certo ti sento benissimo sì sì sono anche in un posto abbastanza silenzioso ma molto limitato nella linea ma ti sento molto bene c'è anche un po' di riduzione del rumore una cancellazione ambientale che funziona soprattutto proprio durante le chiamate beh forse secondo me questa è l'unica nota un po' stonata di questo prodotto potevano fare un po' meglio anche su questo aspetto e sarebbero state davvero il top ma nel complesso diciamo che sono ottime perché proprio lato musica con diciamo armature bilanciate no less e drive dinamici da 7,2 mm queste serious pro offrono un'esperienza musicale di alta qualità dalla gamma dei bassi ai toni più alti hanno inoltre la funzionalità di rilevamento auricolare infatti queste cuffie si adattano in modo veramente intelligente al nostro orecchio e riconoscono che sono l'abbiamo indossate e si avviano proprio in modo identico come facevano le mie airpods pro le gravastar serious pro poi hanno un vantaggio enorme almeno per quanto mi riguarda per il mio uso io mi dimentico sempre di metterle in carica mi dimenticavo spesso di mettere in carica le mie airpods e quello che ritengo il suo punto maggiore di forza sono la notevole durata senza doverle ricaricare pensate che le batterie offrono una durata di 4 ore di riproduzione continua e la custodia può andare a ricaricarle per tre volte andando a garantire ovviamente una durata assurda io per esempio in viaggio sulla nave avevo loro con me lo state vedendo le particolari che vi sto facendo vedere ovviamente di loro e non avendo linea internet ho la mia app total file con le mie canzoni preferite e non le ho praticamente ricaricate mai e l'ho usate tantissimo l'avevo caricata a casa e sono rimaste cariche per tutto il viaggio sono stato 5 giorni per cui durata pazzesca poi se siete appassionati di attività all'aperto o di allenamenti potete apprezzare anche la resistenza al sudore e alle interperie con la valutazione ipx5 inoltre altra cosa che trovo davvero interessante è il peso ragazzi questi auricolari pesano pochissimo di fatto 6 grammi per auricolare saranno di fatto così comodi che vi assicuro vi dimenticate di averle addosso beh ragazzi non mi resta che chiudere con il package di solito si racconta all'inizio ma io ve lo faccio vedere alla fine beh loro arrivano in una confezione eccola qua guardate davvero molto strana sembra sembra di fatto tutto fuori che una confezione per degli auricolari e praticamente si va a aprire la confezione eccola qua e troviamo dentro ovviamente queste stanno qua dentro così eccole qua vedete si trova in questo modo eccole qui vedete e questo prodotto praticamente ci offre anche una piccola confezione vi faccio vedere come hanno curato anche la confezione perché qua dentro troviamo oltre al manuale purtroppo solo in cinese e inglese eccolo qua troviamo anche questa confezione dove c'è il cavo di ricarica e anche guardate un po' tutte le possibili possibili gommine di ricambio da inserire sul sulle nostre sui nostri auricolari che ci servirà appunto a seconda della dimensione del nostro orecchio in conclusione le sirius pro mi hanno risolto dei problemi e mi sono ho abbandonato le mie precedenti apple pro perché mi hanno veramente sono stato davvero deluso dalla apple e loro di fatto mi offrono un'esperienza audio ottima in ogni situazione e se cercate delle cuffie wireless con un design decisamente futuristico e prestazioni di alta qualità beh queste sono sicuramente una scelta davvero importante da poter fare grazie per aver ascoltato questo mio video questo mio sfogo su quello che mi è successo buona musica a tutti vi lascio il link di amazon e se lo trovo quello a basso costo di aliexpress qua sotto in descrizione se decidete per caso di acquistarli e magari aiuterete il canale del big a stare in piedi ci si vede alla prossima un abbraccione dalla toscana è tutto